E il gruppo delle mamme? Sono Carmela, mamma di San Dieno, scusate per questo obo, ma c'è io una questione per risolvere con la mamma di Chievene. Ieri bambine, s'hanno fatto lo scambiamento delle catte Pokémon. Chievene, sa figlio, si pigliò il Pikachu, ma sì, di una figlia. Ma che c'è una catte, lì in cartone, va? Do Pikachu? E che c'è il capo di tutti i Pokémon. Il capo di tutti i Pokémon. C'è il capo di scambiamento delle catte, le catte fedeltà e l'ospirma, poi c'è l'asso della briscola e poi questa carta ogni 10 caffè 1 maggio. Non va bene, ora il piccolino San Dieno non l'aveva mai veduto questa carta. E sono contento, mamma, c'è le catte rare. Ah, quelle rare? C'è questa mamma, questa caccia è puzza di fricatura. Eh, io voglio aver tornato il nostro Pikachu V-Mac, sì, che oggi ci siamo molto affezionati, avevamo messo che ce l'abbiamo a casa e non abbiamo mai avuto problemi. Che d'ora, ma che era il mio marito? Io ero tornato dal lavoro, ho visto stanco, si mette le catte. A un certo punto mi disse, che è bella? Ma è questa Pikachu che caccia non c'è? Ma che c'ho a dire, mamma, per non farlo spiegare. Se non lo so, penso che ha uscito con i suoi amici Pokémon. Ha uscito con i suoi amici Pokémon. Questa questione si deve risolvere. Dico bene, mamma, fatemi sapere, grazie. Che mi combina, mamma, che con questi pacchetti di Pokémon un sacco di soldi se ne stanno andando, va? Mi costa la più piccata se fumavo il Marlboro. Che mi combina, mamma, fatemi sapere, grazie a tutti. Grazie.